Buonasera amici di Rassegna Metropolitana, sportivi augustani, appena finita qui al Megarello, il Megare ha battuto per 3 a 1 il Dagata con una tripletta di bomber di Mauro, siamo con mister Riccobello per un primo commento a caldo. Mister, raccontaci qualcosa della partita. Sapevamo che era una partita difficile, questa squadra avversaria, l'importante era cogliere i tre punti, l'abbiamo fatto anche se non siamo molto soddisfatti della prova, ma ci condividiamo così. Parto proprio da queste ultime sue parole per farle l'ultima osservazione e poi salutarci, diciamo che al di là del risultato non è stata una prestazione convincente, probabilmente dopo la partita di domenica scorsa oggi ci si aspettava una reazione diversa dalla squadra. Assolutamente, hai un'affettante ragione, ma vedremo di lavorare su questo, l'importante ripeto, prendo per buono soltanto il risultato che è quello che poi alla fine importa, lavoreremo sulla condizione dei giocatori, da non dimenticare che avevamo quattro assenze e anche questa settimana abbiamo dovuto inventarci dei ruoli, ma l'impegno non è stato al massimo. Qui dal Megarello di Contrada a Bongiovanni è tutto con mister Riccobello, il Megara ha battuto il Dagata per 3 a 1, Rassegna Metropolitana, Giuseppe Di Mare, Nunzio Riccobello, buonasera a tutti.